Musica Un'altra puntata di Domandiamolo, il contenitore di Taras TV dal mondo dello spettacolo. Questa sera abbiamo un ospite molto gradito, Don Ciccio, benvenuto su Taras TV. Ben trovati, ben trovati e grazie per avermi con voi. La mia passione è nata 25 anni fa, ho speso tutta la vita intorno alla musica che è la mia più grande compagna. Il reggae è stato costruito, inventato e concepito in Giamaica. A Taranto, il tuo sogno proprio da realizzare? Il mio più grande sogno è che questa grande avventura dell'etichetta Love University Records possa diventare quello che io immagino che sia negli anni. La mia passione è stata costruita, non riuscata, non riuscita con me. Grazie a tutti.